Quanto è difficile oggi innovare e rinnovare un'impresa turistica? SAEF, da 20 anni, aiuta le imprese a trasformare i propri sogni in realtà. Anche sull'innovazione. Lo strumento che proponiamo è il credito d'imposta rivolto alle imprese turistiche, un'agevolazione nazionale che permette di valorizzare le spese sostenute per ristrutturazioni, lavori di restauro, riqualificazioni energetiche, eliminazione di barriere architettoniche, acquisto di mobili di alberghi e strutture similari, concedendo un credito d'imposta del 30% delle spese fino a un massimo di 200.000 euro. Per le stesse strutture, ma anche per le aziende commerciali, c'è inoltre la possibilità di ottenere un credito fino a 12.500 euro per l'acquisto di software, hardware, impianti wifi, adattamenti a mobile, promozioni web, comunicazione e marketing digitale. La richiesta avviene in corrispondenza con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. Innova la tua azienda usufruendo degli incentivi statali e rivolgiti a noi per uno studio di fattibilità gratuito. Da vent'anni Saef, dalle carte giuste!